Durante il Summer Game Fest del 2022 è stato confermato il remake di The Last of Us Parte 1. Uscirà il prossimo 2 settembre su PlayStation 5 e non sarà soltanto una rivisitazione grafica ma anche una rivisitazione dal punto di vista del gameplay. E mai giocata The Last of Us? Fammelo sapere qui sotto nei commenti.